Siete pronti per un altro diore di bordo? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh! Ehi là esploratori, bentornati su H2Ocean. Oggi è un giorno molto importante perché vi porterò indietro nel tempo. Vi starete chiedendo come faremo ad andare indietro nel tempo. E io ve lo dico subito, attraverso questo. È un aggeggino che ho trovato in rete. I commenti dicevano che era possibile viaggiare nel tempo con questo. Quindi, chi sono io per giudicare gli acquisti fatti alle 4 di notte? Ma lo sapremo subito se funziona. Siete pronti? Potremmo viaggiare nel tempo! 3, 2, 1... Ci troviamo agli inizi del periodo ordoviciano. E mentre i continenti non erano ancora lì dove li vediamo adesso, le terre emerse erano disabitate e faceva tanto caldo da poter oscillare nudi su una palla demolitrice, nei mari erano presenti molte forme di vita, come i brachiopodi, molluschi nautiloidi e l'artropodi primitivi, come i trilobiti. Tutti organismi ad oggi estinti dall'era glaciale che si è verificata alla fine dell'ordoviciano, che ha spazzato via gran parte delle forme di vita presenti in quel periodo. Ma qualcuno ce l'ha fatta. In realtà nei mari del periodo ordoviciano non erano presenti soltanto molluschi, artropodi ed altri invertebrati, ma erano presenti anche i primi animali che avevano tutte le carte in regola per poter essere classificati come vertebrati, ovvero gli agnati, che erano pesci senza mandibole e senza mascelle, che non erano in grado di mordere un hamburger, non erano in grado di fare questo, e non erano nemmeno in grado di aprire e chiudere le mascelle per mangiare, come noi o come tutti gli altri vertebrati. I ritrovamenti fossili suggeriscono che la storia evolutiva degli agnati si è iniziata prima del periodo ordoviciano, ovvero nel Cambriano, circa 542 milioni di anni fa. Gli agnati si sono diversificati molto, e le caratteristiche che sono apparse nelle successive generazioni di agnati hanno portato allo sviluppo dei pesci moderni, come per esempio i chondroitti, squali, razze, oppure i pesci ossei, come per esempio Nemo o i pesci rossi. La maggior parte degli agnati si è smarrita lungo le mille strade dell'evoluzione, ma alcuni rappresentanti sono riusciti a raggiungere i giorni nostri, in particolar modo le missine e le lamprede. Ecco, loro sono degli agnati e sono dei, possiamo dire, dei sopravvissuti, e proprio per questo motivo sono molto studiati, perché vengono utilizzati per capire la storia degli agnati e quindi anche la storia di noi vertebrati, che, ricordiamoci, di cui facciamo parte anche noi, i rettili, gli anfibi, i pesci, siamo tutti vertebrati. Perché tutti siamo vertebrati in fondo, no? Nonostante ci siano ancora tante cose da scoprire, quello che si evince dalle ultime analisi genetiche è che la storia evolutiva dei vertebrati parte proprio dagli agnati. Eh? Sembra una canzone di Vasco Rossi, io sono commosso. Tipo... È la storia dei vertebrati! Inizia proprio con gli agnati! Eh? Oggi nel nostro diario di bordo parleremo proprio di missine, degli organismi strabilianti disegnati da Satana in persona, con delle bocche fantastiche e dei superpoteri magnifici. Le missine sono animali anguilliformi che sono in media lunghe 40 centimetri, vivono in prossimità del fondale, ad una profondità che varia a seconda di alcune caratteristiche, come per esempio la temperatura. In generale però è possibile trovarle tra i 20 e i 1200 metri di profondità. Vivono spesso in tane anche tutti insieme. Oh 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 oh, e che cos'è questo assembramento? E si fa presto a dire missine, perché in realtà ne esistono circa 70 specie differenti, distribuite in varie regioni del mondo, tra cui l'oceano atlantico settentrionale. La testa e le branchie di questi organismi sono sostenute da una struttura di natura cartilaginea, proprio come il tuo naso o come le tue orecchie. Tutta la struttura dell'animale è sostenuta da una notocorda, ovvero una struttura presente in tutti quanti i vertebrati. Nella maggior parte dei vertebrati, la notocorda si trova soltanto nello stadio embrionale, perché quando l'organismo diventa adulto, quest'ultima viene sostituita da uno scheletro, che può essere sia di natura cartilaginea, nel caso dei chondroiti, ovvero squali, razze, chimere, oppure di natura ossea, nel caso, per esempio, dei mammiferi marini, oppure dei pesci ossei, appunto, come il pesce bagliaccio, nemo, per esempio, o i pesci rossi. Nelle missine e negli agnati, questa cosa non succede. La notocorda persiste in tutto lo stadio della loro vita. In tutta la vita è presente la notocorda. È quella la struttura di sostegno. Un'altra caratteristica che fa delle missine dei veri e propri outsider dei vertebrati è sicuramente l'assenza di pinne pettorali e di pinne pelviche, nonché di una narice singola ed enorme. Le missine non sono dotate di veri e propri occhi, ma di recettori fotosensibili in grado di percepire le variazioni di luminosità. Questi recettori sono posizionati nella zona della testa e nella zona della cloaca. La cloaca è una struttura che è presente in molti pesci e sbucano in questa struttura sia l'apparato urinario che l'apparato genitale che l'apparato escrettore. Quindi, in pratica, questi recettori sono posizionati nella zona del culo. Il fatto che questi organismi abbiano dei recettori fotosensibili proprio in quella regione ha senso dal punto di vista evolutivo, visto il loro stile di vita. Ci arriviamo, con calma. La mancanza di una vista poco acuta è sicuramente compensata dalla presenza di un olfatto molto sviluppato. Vi ricordate di quella narice grossa e unica di cui abbiamo parlato prima? Bene, quella narice è direttamente collegata al faringe. Questa cosa non è comune per niente negli altri vertebrati e permette alle missine di respirare, percepire e alimentarsi allo stesso tempo. Altri organi di senso sono i tentacoli. In particolar modo ne possiedono sei e su ognuno di essi sono presenti vari recettori in grado di percepire sia stimoli chimici che stimoli fisici. E questo permette all'animale di potersi orientare anche al buio. Nelle missine però non si è ancora sviluppata la linea laterale, un organo che è presente in molti pesci, anche negli squali per esempio, e permette di percepire ogni minima vibrazione dell'acqua causata dal movimento di corpi all'interno di essa. Ed ora bambini vi mostrerò quanto è bella la bocca di una missina. La bocca delle missine è circolare e è presente dei denti formidabili che vengono continuamente cambiati quando vengono rovinati. In pratica, le missine hanno i denti come gli squali. Nel senso che vengono continuamente cambiati. In realtà le missine non hanno dei veri e propri denti ma dei dentelli cheratinici che è un po' diverso perché hanno un'origine differente rispetto ai denti ma in ogni caso sono comunque molto bravi a lacerare la cute della vittima, ad entrare nel suo corpo prendersi un varco e boccone dopo boccone ne divora gli organi dall'interno. Gli scienziati hanno addirittura trovato a volte le carcasse dell'animale che esternamente erano intatte e internamente erano completamente consumate. Ora scusatemi ma io devo... ovunque analizzando il contenuto stomacale di questi organismi gli scienziati hanno scoperto che oltre a carcasse di balene si nutrono anche di policheti, cefalopodi, o fiure e altri organismi. Questi organismi, anche se sembrano delle salsicciotte assettate di sangue con una bocca disegnata da satana in persona sono molto importanti dal punto di vista ecologico perché sono definiti degli scavenger sono degli organismi che si nutrono principalmente di carcasse di animali che cadono dalla superficie oppure di animali morenti e svolgono un importante ruolo di spazzini e riescono con la loro attività ad immettere nuovamente quel materiale organico presente vicino alla carcassa o vicino all'animale morente nuovamente nella catena trofica e renderlo quindi disponibile a tutti gli organismi. E finalmente vi posso svelare perché hanno i recettori sul culo perché se tu sei un organismo che passa la maggior parte della sua vita con la testa infilata all'interno di una carcassa avere dei recettori come abbiamo detto prima sul culo è fondamentale perché così puoi nutrirti della carcassa spolparla e nel frattempo vedere se c'è qualcosa che succede intorno. E se tutto questo non vi sembra abbastanza per non farvi entrare in una vasca piena di bissine vi sconvolgerà a sapere che possono letteralmente affogarvi con il loro moccio. Lungo i fianchi dell'animale dal corpo alla coda si possono osservare delle strutture simili a bollicine chiamate ghiandole mucipare che secernano un'enorme quantità di muco simile al moccio che esce dal naso ma con la differenza che non si secca mai. E infatti le missine hanno una vita tristissima perché non sono in grado di poter fare le caccoline e lanciarle quando gli altri non vedono. Il muco serve alla missina come meccanismo di difesa quando viene attaccata oppure quando si sente in pericolo. Quando un predatore si avvicina alla missina per mangiarsela quest'ultima da buon figlia di satana produce il suo muco viscido che a contatto con l'acqua si espande e può intasare le branchie del predatore impedendogli di respirare. E ora veniamo a uno dei momenti più solenni del video in cui vi dico come si riproducono le missine. Lo so che stavate aspettando questo non mentite. Il problema però è che non si sa molto sulla riproduzione delle missine questo perché non sono oggetto di pesca e soprattutto sono molto difficili da studiare. Quello che però si sa con abbastanza certezza è che sono ermafroditi sequenziali il che vuol dire che durante il loro periodo di vita cambiano sesso in particolar modo nascono maschi e diventano femmine. Questo tipo di meccanismo in biologia si chiama proteandria sono organismi proterandrici. Dopo essere state fecondate le femmine producono un numero variabile di uova che va da 1 a 30 e sono tutte dotate di un abbondante vitello e di una struttura protettiva. Inoltre, all'estremità sono presenti dei ciuffetti che sono molto importanti e servono per l'aggregazione delle uova tra di loro e l'aggregazione di quest'ultimo con appigli presenti sul substrato come per esempio i ciottoli. Questo permette di rimanere saldamente ancorati in quel posto dove si trovano e non essere poi via sballottolati in giro. Pensate che si sa così poco delle missine che l'Università di Copenhagen un po' di tempo fa mise in paglia un premio per chiunque riuscisse a raccattare informazioni scientifiche valide proprio sulle missine. Pensate che quel premio ancora non è stato riscosso. Per cui, se siete appassionati di biologia marina e siete particolarmente affascinati da queste figlie di Satana adorabili e misteriose è il momento buono per iniziare gli studi di biologia marina. Per oggi è tutto amici spero di non avervi traumatizzato troppo. Inoltre vi ricordo di seguirmi su Instagram dove verranno pubblicate settimanalmente delle foto di varie specie di animali in cui è presente una descrizione che verrà approfondita sul sito Noicimergiamo.it Ciao! Noicimergiamo